bentornati su my football jersey questa maglia stupenda dal colore diciamo così un po non tradizionale è la terza maglia del chelsea per la stagione in corso e questa che vedete è la versione player a me piace molto questo colore menta non so come chiamarlo veramente molto bello il tessuto della versione player di nike qualità ottima il costo lo vedete qui sopra per questa maglia un affare imperdibile se volete ordinare la maglia trovate tutti i riferimenti qua sotto in descrizione andate a vedere sul sito perché insieme a queste ci sono tantissime altre maglie che vi attendono prima di lasciarvi la parte in cui vedrete la vestibilità come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale a voi non costa nulla ma ci permette di mostrarvi tutti i giorni nuove recensioni per oggi è tutto alla prossima io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa quella che vedete è una taglia large della versione player di iscriviti al canale